Aiutami a viverlo in amicizia con te e con il prossimo. Donami la forza per affrontare gli impegni che mi aspettano. Aiutami a condividere la gioia e a superare le difficoltà. Donami la forza per affrontare gli impegni che mi aspettano. Siamo in 1984 e nelle anni tra soffre l'unico, gruppo e sei compagni si ritirano in una malata giocontata di altre montagne. Sorge la prima giardinza che prende il nome dal nuovo nevato Shacklerus. Trascorsi sei anni, il papo appare a scontro con questo tipo di ego, chiamato l'uomo a diventare su un consigliere. Il papo appare a scontro con questo tipo di ego. Quando venivamo qua si comprava il formaggio fresco, il miele. comprovavamo qua. Che loro lavoravano. Certo, non rinno di questo consapevole. Che bello. E le messe per mia mamma e per mio papà le avevano celebrate con i miei lavori anni. e la mamma del tider ha pagato tutto per mia mamma e per mio padre. E loro hanno avuto i soldi e l'abbiamo portato qui. E dopo il giorno, quando cominciavano, ci hanno potuto tornare a noi. Questa tider, non veramente la mamma. Tutti si erano zia che la mamma hanno dato. Allora si pagava 200 euro. Allora, c'erano i miei, c'erano i miei, c'erano i miei, c'erano i miei. Dagli atti degli Apostoli In quei giorni, Paolo diceva agli anziani della Chiesa di Efeso Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio figlio. Grazie a tutti.